Il tira e molla fra il nome di Silvia Toffanin e il Festival di Sanremo è citando la conduttrice una barzelletta che non fa più ridere. Prima è intervenuta Mediaset, poi una fonte Rai, poi ancora un'altra fonte Mediaset e infine pure Amadeus in persona che ha parlato di contatto avvenuto per l'edizione del Festival del 2020. Avevo chiesto a Silvia Toffanin di esserci per il mio primo Sanremo nel 2020 e lei carinamente aveva declinato l'invito. Dicendomi. Non mi sento di doverlo farlo adesso. Magari più avanti vediamo. Ho un rapporto fraterno con Graziellina. Ovvero Graziella Lopedota. Manager di Silvia Toffanin. NDR. Perché eravamo entrambi legati al nostro amico che non c'è più. Il manager Franchino Tuzio. Con Graziella ci sentiamo tante volte. Anche per gli auguri. Non abbiamo affrontato l'argomento Silvia ultimamente. Non è detto che non accada in futuro. Se accadrà lo richiederò a Graziella. Le porte. Per quanto mi riguarda. Per Silvia Toffanin sono sempre aperte. Lei mi piace molto ed è molto brava. Magari il prossimo anno che è il mio ultimo festival sarò felice di averla con me e glielo richiederò. Magari mi dirà di sì. Fan page ci ha però voluto vedere chiaro ed ha così contattato Graziella Lopedota. La. Graziellina. Di Amadeus. Nonché la storica manager di Silvia Toffanin. Ho ricevuto la richiesta della disponibilità di Silvia Toffanin a partecipare anche a questa edizione di Sanremo. Silvia. Lusingata. Ha ringraziato ma ha declinato per motivi professionali. Insomma. La richiesta per avere la conduttrice di Verissimo sul palco dell'Ariston secondo la manager sarebbe avvenuta sia nel 2020. Sia nel 2023. Nonostante la smentita di Amadeus. Toffanin non va a Sanremo. Ma Sanremo va da Toffanin. La manager ha comunque sottolineato i rapporti distesi fra Silvia e Amadeus. Tant'è che un paio di settimane fa è stata registrata un'intervista a Giovanna Civitillo che andrà in onda domenica 8 gennaio proprio a Verissimo. Grazie per la visione.